Sì, oggi festeggiamo due giornate particolari, la giornata del progetto di tree planting in inglese che significa un albero per ogni socio rotariano del mondo, un progetto fortemente voluto dal nostro Presidente internazionale Ian Lysley e dal nostro Governatore John De Giorgio e porterà a piantare in tutto il mondo oltre un milione e duecentomila alberi che contribuiranno a ridurre l'impatto e il degrado ambientale. Il secondo evento che festeggiamo è il nostro impegno continuo per questa città. In questo luogo che è simbolico abbiamo voluto incominciare a impegnarci a rendere questa piazzetta più confortevole, più bella, impiantando del verde. Continueremo a disposizione dagli enti pubblici del Comune della Sovrintendenza con la loro collaborazione a realizzare una miglioria per questa parte della città a cui noi teniamo molto il centro storico. È stata rappresentata oggi dalla donazione del Rota di Treppe di Caltanissetta di alberelli, siepi e piante nel largo barile nella piazzetta che si è venuta a creare dopo l'abbattimento del palazzo che era nello slargo. E quindi è un ulteriore passo verso la riqualificazione di un'area per spiegare del prestigioso palazzo Moncada che contiamo già nei prossimi mesi estivi di utilizzare per attività sociali, culturali, a servizio del quartiere e della città. Un palazzo che sta diventando sempre più un luogo di promozione culturale, sociale e anche di innovazione nei prossimi giorni con la manifestazione Strade Digitali 4.0 della città e del suo territorio.